Allora signori il cappellano vuole vederci e dopo quello che è accaduto non penso sia molto contento visto che siamo entrati a contatto col caos e in questo caso i The Thousand Sons Sicuramente ci farà la ramanzina, padre Mario, Don Mario Più che la ramanzina rimarrà un attimo preso male Ah! Guarda che non ce l'ha con te Chiron, fidati! Tu sei veramente all'acqua di rose Ah! Era la stanza di Varellus Stanno pregando per la sua morte nella sua cella con le candele Che figa sta cosa però, noi non le avevamo mai viste ste cose Cioè vedere come si comportano gli space marini in questi ambienti è bellissimo È molto bello per me Questa è la mia, dovrebbe essere la mia Cella Cappellano sono qui Ok Ma io mi fido del Primark Come potrei non fidarmi del Primark Perdonami Cioè non è contemplato che io Minchia che palle gade Mh, esatto Ma poi mi hai visto che cosa ho fatto Mi hai visto come mi sono comportato Cioè Boh, sto Gadriel Finirà poi per essere il più fedele cagnolino Vedrete Sembra proprio il giovane Il giovane belloccio che Che Finirà de merda Ecco qui Finirà male Stupido Gadriel Sì perché non ha mai mai Questo qua non ha mai combattuto seriamente Ogni volta che diciamo Un nemico L'ha mai combattuto Non l'ho mai combattuto Io È figo È bello È forte Non l'ho mai Ok 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 Che palle You will see Quindi Abbiamo armi nuove Uh Lunga agitata Pesante Incendio editorial plasma Precisione Carabinare Che misti Gator Uh quanta roba bella Ehm In verità In verità In verità Il venetor Probabilmente Netor Non mi disturba E che pesante Spada catena Eh per forza Derga guerra fondaio Abbastanza Abbastanza A me fa morire Che ha la catena Intorno al polso È bellissima Guarda lì ragazzi I boys Hello boys Lieutenant Lieutenant The squad is ready We are yours to command Lieutenant The astropathic relay On avarax Is under direct assault If it falls So do our hopes Of reinforcement We will engage In a three point Operation To break the Xenos command Restore vox And secure the relay We will not fail you Not one of us Can afford to fail This day Prepare for deployment I will transmit Mission details on descent Perfetto Ciao Chiara È la loro versione Dei braccialetti Dell'amicizia Comunque nonno Se ci sei ancora L'altro giorno Spiegavo anche ai ragazzi La questione De Dell'imperium No Che sembrano Soldativi Ma in verità Quelli di Cadia Porca troia C'è l'imperium Che ha combattuto A Cadia I cadiani Sono tanta roba Allora E adesso Sono Cazzi Immagino E lui Continua a guardarmi Male C'è C'è l'imperium tu ero il capitano della seconda company e poi hai dissiperato durante un settore io ero servito con la morte c'è ricordi non per una città 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 una città città tu eserirà la città del capitale io morirò per queste colori allora perché? eresi eh lo so vinci mi rendo conto dai andrà alla grande vinci andrà alla grande bello tutti inginocchiati è troppo bella sta cosa che cammini e si inchinano no un altro orus no oh cosa dice siamo l'ottavo cadiano gli uomini e le donne più temibili e tenaci implacabili che mai hanno attraversato le stelle che fighe come si chiamano i marescialli ma cadia la ma cadia l'hanno l'hanno atomizzata loro no? siamo la vendetta e porteremo la morte a tutti coloro che minacciano il sacro suolo dell'imperium che figo darete la vita nel nome del nostro santo imperatore e scrive prendete lo stendardo cadiano e il santo in alto affinché il nemico conosca il nome dei suoi giustizieri che lo duro momento bellissimo per cadia proprio grande cadiani cattivi raga ve l'ho detto sembrano cazzini perchè sono mini da ma sono duri alcuni di loro sono davvero duri quelli come quello lì sono duri 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 te lo dico questi poverini magari no moriranno come mosche ma quelli come quello lì no i gran marescialli quelli quelli come questo sono più duri eeeh ora capite e ora capite quello che intendevo vi ricord vi ricordate che bello avevo detto no? che nell'imperium c'è gente come quello che se tu fai un passo indietro ti spara in faccia no? ecco i codardi è vero è vero è vero è vero è vero è vero perchè io mi aspetto questo io voglio questo cioè io quando vedo quando vedo i cadiani e vedo le cioè io voglio vedere questa la fucilazione dei codardi cioè voglio respirarmelo sto cazzo di mondo di merda perchè è tutto così è una merda però è talmente affascinante guardali come sono cattivi porca eva e ci sono cattivi eh in ginocchio bravo praticamente è veramente una merda e perchè sto una figata perchè è la cosa peggio cioè tu non vedi loro sono riusciti a volte anche un po' esagerando cioè non c'è la speranza in Warhammer 40.000 io non credo di aver mai ricordato un momento felice di Warhammer dove c'è gente felice cioè forse delle rappresentazioni illustrate dei salamandra che tornano a casa dalle loro famiglie ma un maid non ufficiali ecco e lo dico guardando il mio codice degli orchi eh eh siete fatti i cazzini mi avevo potuto dire ehm no andiamo con lui anche colpo singolo però boh provo quello colpo si basta dammi il multitermico cazzo dammi il multitermico guarda guarda sector closing xenos activity ci pensiamo noi mamma mia amami apprezzami leccami i bicipiti no fuck merda for the emperor for the emperor aia merda ma sto schiacciando l'imperatore e il problema del multitermico è questo che sei un po' più sei un po' più alla merce eh questo è bastardo via aaaah che due coglioni due ore che mi spari oh vabbè è stato più veloce lui della mia pistoletata incredibile eh vabbè mi ha preso sono morto e invece sono ancora vivo mannaggia mia qua più merda non l'ho visto madonna comunque a veterano ti fanno dei danni cazzo porca troia se ti smontano corri a veterano ti smontano mamma mia ti smontano nooo eh vabbè meno giustizia a lui va buono e che a me ha fregato io non volevo giocarlo così difficile ma a me ha fregato la dicitura il gioco è stato pensato per essere così eh vabbè allora dai eh il cazzo lo spara la campana guarda lì guarda lì li tirano sotto grandi porco giuda ok non ho più colpi non ho più colpi ah grande continua ad andare dritto a tirarli sotto tutti eroico eroico che ha il piccolo che ha armato paura non ne ha lasciamo che impazzerebbe eh ma è ancora concentrato quindi non è ancora morto non è ancora morto con la bestia non l'avete uccisa e no Vespasius vi assicuro che non l'avete ucciso ma ma ok ok qua non c'è niente per me vero ah sono un po' senza munizioni però vabbè vabbè è quello tanto poi arriva a rompermi il cazzo vero ok uno è andato forse ok 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 giustizia mi servono le munizioni però a me a me tutto a me ovviamente ragazzi gli sparate a sto coso per favore oh bravi ok ok ma sono riuscito ad avvelenarmi ma da dove cazzo è uscita sta che palle non sto perdendo nulla oh sicuro qualcosa ma qualche munizione in più open the gate ok ok non ho l'arma giusta per dove sono merda taccia ho una roba troppo leggera qua che cosa ci sarebbe dovuto essere perdonatemi un segreto un qualcosa no dei stimolanti che prima non ho colpito evidentemente va bene stimolanti buoni arena lichter c'è un lichter sicuro ma forse no we must find the power and restore it fuck i found it spore scusa ma prima cambia equip no basta termico carabina requiem marksman ah le ave ah era un bug lui dice spore ma l'ha detto da sopra ma non le ha viste veramente non le ha viste veramente ma erano vicine in prossimità il personaggio dice spores e ho detto fuck ma dove avete visto che stavo controllando fuori e ho detto arriveranno da fuori arriveranno no erano lì chiaro 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 non ho granate bella la vena protettrice la reliquia reliquia bomba termica va bene tutto troppa roba mi state dando troppa roba paura cazzo questo è enorme raga merda il fucile laser di precisione è enorme ma devo prendere per forza questo one shot eh no non one shot mi ricordavo one shot assi lancia fiamme merda guarda qua che roba che hanno allora il caos come serpeggia postaccio eh non si sa se vogliono fermare aurora madonna che botta che mi è arrivata oh che cazzo ah c'è un cecchino loro ah sono loro contro le tirannidi quindi merda mai visto eh porca troia ho mancato ho mancato ora non l'ho più mancato ora devo ricambiarla l'arma perché è bella tutta brava abbiamo fatto fuori due cose importanti però bom è che pesante lo avevo c'è oddio lo posso anche tenere però boh sono veramente a rischio ogni volta qua veramente tanto prova a salvarli ah io non c'entro niente qua vero e li faccio assolutamente niente ok non li posso salvare volevo provare vabbè questi per fortuna anche con l'arecchio in pesante van giù si ammazzano vicino è meglio che cazzo era che non l'ho capito oddio ah ma questi qua sono in armatura erano in armatura oddio erano in come si chiamano erano in erano in armatura termite oddio dai non mi viene il nome è terminatus come cazzo è perché oggi non ricordo niente vabbè avevano l'armatura quella degli space hulk forse forse la versione potenziata loro però non è spettacolo però non è terminator terminator non mi veniva avevano l'armatura terminator del loro capitolo amica ciao evelyn ma vedrai che andrà benissimo evelyn non temere lo voglio saltare ok cosa vuole darci un non ho capito non ho capito ah eh prendiamo le armature per volare lui vuole andare con l'onore lui è uno space wolf e non lo sa eh 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 oh eh 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 E' andato a combattere mi sa Quello principale E' andato a combattere la tirania Grazie Everin Grazie infinite Coglione Questo è proprio un coglione Coglione Dove vuoi andare da solo non lo so Coglione Coglione Ok ora facciamo un massacro Facciamo Bam Let's go No volevo salvare i miei Uno è sopravvissuto Grande Grandi le guardie In ginocchio ragazzi Che brave le guardie Che brave le guardie Bellissimo Quel ford emperor è stato emozionante Buonanotte Coglione 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 No Veridian Non lo riusciamo a sentire Riusciamo a sentire nessuno Quindi nessuno è riuscito ad arrivare al Al luogo che avevamo detto Cazzo Quanto ti devo mitragliare la faccia Perdonami Cazzarola Ancora in piedi Cogliare Non ok ok durissimi sono comunque queste mi devo sparare cento volte per ammazzarli a merda porco giuda qua ok ok loro sono vivi io insomma sto un po' così non sto proprio una favola ma neanche troppo male in verità ok ho sbagliato tasto perché schiaccio triangolo per azionare le cose non lo capisco oh shit ma in verità questo va più che bene è fucile termico lunga città di automatico però è tutto lunga città mi vuol dire che citerò che sparirò da lontano merda merda siamo senza aeratori sono più di polvere ah talazza ha fallito ok allora eh il problema è questo che io ora sono molto poco mobile sono veramente molto poco mobile comunque per l'imperatore ragazzi assolutamente e per ultramar ma sono esploso su un barile perché ero per ero al massimo deve essere stato un barile esplosivo qualcosa perché non è possibile no la fanno porca troia ah questo non può ricaricare le munizioni è vero porco due ok ok merda ma dov'è il cecchino di merda c'è un cecchino di merda da qualche eccolo ora cosa c'è gadriel in ira che cazzo è andato lui in ira barbarica ok finalmente il cecco in meno oh no eh sono un po' di roba che potrei fare ma tipo il multitermico adesso potrebbe essere un'idea ok dai uno in meno uno dei due pesanti eccolo qua no c'è un carnefice cazzo non l'avevo visto questo è morto ok quelli grossi grossi rompicoglioni due grossi 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 io fatti merda madonna non l'avevo visto questo ma come ha fatto a prendermi che ero a 200 metri ricordiamolo ah ma ha sparato gli spunzoni è vero vabbè carion muore ora forse riesce a salvarmi carion in qualche modo bravo carion ah però bisogna arrivarsi di qua è troppo schifo bisogna fare merda ce l'ho davanti ok questi sono me li sono levati aia allora lui è ancora bello bello pimpante no ma cosa ma uccide madonna quelle spuntone non le vedi sono piccole così non le vedi partire cazzo di checkpoint è merda minchia magari uno stimolante prendiamolo a sto giro ok ah ok già dal carnefice meno male meno male che sennò sarebbe stato un disastro bella la bomba con la detonazione questa è venuta bene non le vedi a che sennò che sennò che sennò che sennò che sennò Quelle cazzo di puntine di merda Che coglione che sono Ok Sto tenendo tutti i colpi possibili Vabbè ma lui è morto Uh che fa clicca Madonna quanto è grosso sto coso però Ok altri Un altro carnefice Oh cazzo Quanti Vabbè ma è ingestibile Sono avvelenato le ho tutte Ah Talasa ha ucciso il tiranno C'è la fata Mamma mia Talasa meno male Bravo decimus Vediamo se riesco a finire l'ultima parte Anche se ho avuto un problema col collage Degli episodi Bravi inchinatevi tutti Sarà un casino riuscire a montare tutto Però vabbè Perché ora ho due episodi super spezzettati Da un delirio Tutto bene Tutto bene Dark Grazie infinite Ricordati Gadreel che ti ho salvato io il culo Quanto morirai Gadreel sicuro Non ti faranno andare in un'altra squadra Non temere Non accadrà Trasmettiamo il messaggio al Lord Calgar Madonna mi sta andando tutta Tutta roba per combattere probabilmente boss O cose del genere Perché Reliquia E Steampunk Steampunk Mi fanno pensare a quello Uh data Wow Dovrebbe essere vicino Dove possiamo trasmettere Grazie Shaq Dove possiamo trasmettere Oh oh Eh gli astro preti Oh oh Tu avresti dalla vostra struttura. Tu avresti a te ora. Dà me la tua messaggio. Hmm Sfionici quelli veri L'osso E' un miscuglio di tecnologia Rito Pagano Sacro Profano E' una figata È塞 Sacro What does she mean? No! Heritage! Cosa è questo? Non lo so. Tu volete portare a Golgari qui, che tu puoi uccidere il? Heretic, Heretic, tu ti farai perderemo, come ti farai perderemo per Grya. Lies. Arresti lui, lui vuoi uccidere. Lieutenant! Gadreal, non sono un heretic. Questo è il Power Stone per se stesso. Deve essere fermato! Uccidere l'Hanatic! Uccidere l'Hanatic! Uccidere! Uccidere l'Hanatic! E' lei l'Eretica! E' lei l'Eretica! O è lui! E' lei l'Eretica! E' già! Che piacere sei te? I mura, eccolo! Ma questo è uno dei The Thousand Suns, però... Pazzo! Vorrei tanto leggere, ma... Eccoli qua! Pazzo! Ok! Ok! Ho finito i colpi! Donna che botta che mi ha dato! Che botta che mi ha dato! Orco Giuda! Domanda! Le munizioni! Ah, eccole le munizioni! Eh, non ne ho più di munizioni! Eccole! Restocco! Restocco! Eccolo! Che botta che King! Allora... Che botta che.. Le munizioni più importanti! Eccolo! Buti anche che! No 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 Eh qua sto rischiando tantissimo Ecco si vanno col fuoco Eh va bene ci sta ci sta Ritorno su da solo Le munizioni Le munizioni Ok Dove cazzo è andato Ok Ok E ora fase 2 ovviamente Ma come Vabbè Non ho più munizioni Aia Sono morto Ok Ciao Fon Ragazzi Gadriel Dai ma non mi camperare il corpo Dai E che cazzo Ok E che cazzo E che cazzo Ma vedo malissimo Non ho Non ho modo di fargli del danno Come voglio io Ok Via Uh l'imperatore Eh si è il punto debole del gioco Lì ha No 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 Via Morto Ero dentro Che cazzo da fare Cazzo sei Uh Devo tenermi i colpi eh Per fare I counter Ah ok No ce l'ho fatta Merda Avevo tre colpi Più cinque di caricatore Leftenant Titus Come in This is Titus Chaos forces have been detected entering the system They are going after Aurora We are leaving for Demerium immediately How did you know How was a boy on calf when the word bear is attacked I came to know the mark of Gareth Ah ready You word bear is Oh finalmente Gadriel Ti fida di me Grande Carion eh Grande Carion Che ci ha salvato veramente tutto Baracca e Burattini Se noi eravamo veramente ridotti Ridotti male Bello comunque raga Mi sta piacendo un fottio sto gioco Veramente veramente tanta roba Sono molto 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 felice Forse veterano un po' difficilotto per me Cioè Faccio veramente tanta fatica Per chi vuole avere una sfida Comunque Magari lo diverte più Di quanto Possa effettivamente Divertire magari me Che volevo Più un racconto Che un massacro Però Comunque ci sta anche Avere un po' più di challenge Su un sistema Che però è veramente Sulle tirannidi È veramente veramente Massacrante Con il caos Meglio Mmm 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 Hanno tutto Eh io avevo ragione E sempre Può darmene solo tre E sempre The enemy Seem to be drawing Their power From this Structure What is it We don't know Every attempt To bring it down Has failed Your squad Has developed A reputation For unconventional Approaches Any ideas I've read of Demerion It's a burial world 4,000 years ago There was a clash Between the ultramarines And the heretics Hmm The sword of Atreus The battle bar Wrecked in the fighting Was laid to rest here What of it Record state that While its body was ruined Its engines burned bright Even as it was interred Wow Ah vuole schiantarcela contro Very well then Navigation systems Are probably dead We can't afford to miss He's right Someone will need to get close to the target In place of beacon Our offensive launch is in 90 minutes Interessante Quella di schiantarci Una nave Vascello Direttamente Nei denti Non è male Come Né come idea Né come approccio E ovviamente Torniamo dal cappellano Che è incazzato nero Ok Ha 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 He 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 Sure brothers Kyra Che è incazzato nero